ciao da fatina birichina ho trovato in edicola questo album di you who starter pack allora solo 4 euro e 90 della panini vediamo un album più 25 figurine più un animaletto 3d allora sinceramente non so cosa sia se è un cartone animato non so perché la prima volta che vedo questi graziosissimi personaggi però appunto siccome mi sono piaciuti l'ho acquistato proprio stamattina allora poi ho preso due bustine di figurine al costo di 80 centesimi luna e adesso andiamo a vedere come è fatto l'album ecco allora quello che c'è all'interno del bustone è questo ci sono cinque bustine quindi totale 25 figurine dopo c'è questo bellissimo animaletto che dopo cerchiamo di scoprire che animaletto è a me all'inizio sembrava un gattino ma non ne sono molto sicura poi c'è la checklist e c'è scritto qua di collezionarli tutti a quanto pare vendono poi le buste singole dove potrete trovare gli altri amici allora lui è fammi è questo poi più è questo qui e dopo ci sono tutti gli altri vediamo rudy spotty sugar bookie slow cammi otis ciu lora e limmi eccoli qua e adesso andiamo a guardare anche l'album vediamo come è fatto all'interno vediamo ecco qui allora you who e anche 3d colleziona tutti i 12 personaggi di utopia li trovi in edicola in ogni flow pack trovi un personaggio e una bustina della raccolta di figurine eccoli qua sono cinque cuccioli coraggiosi che vivono a utopia a bordo della loro astronave wonderbug e con l'aiuto di slow e lora girano il mondo per aiutare gli animali in difficoltà imparano tante cose interessanti su di loro sulle loro abitudini sui luoghi in cui vivono vuoi conoscerli meglio sì e allora iniziamo subito facciamo le presentazioni e partiamo insieme per questa nuova avventura non avevo letto i nomi all'inizio sono sono you who fammi cv limmi e rudy ok e poi qui c'è la presentazione di ognuno di loro e poi anche gli oggetti degli altri componenti dell'equipaggio diventano strumenti fondamentali per aiutare gli amici animali ecco i mezzi dei nostri amici per le loro avventure alla scoperta dell'america diamo una mano a trevor quindi ci sono anche dei giochini qui c'è un mega poster ok alla scoperta dell'africa del sud america è comunque un album di animali devo informarmi se esiste anche il cartone animato perché sinceramente non lo so ok oceania deve essere davvero carino allora qua ci sono sempre tutti i personaggi e questo è l'album della panini che troverete in edicola spero che vi sia piaciuto magari prima di concludere il video apro una bustina così vediamo come sono le figurine eccole qua allora sono fatte molto bene ce ne sono anche alcune con il bordo glitterato qui c'è un pandino e qui ecco bene vediamo così ok allora questo era tutto quello che c'era all'interno del bustone spero che vi sia piaciuto e vi do appuntamento al prossimo video un bacione da fatina birichina ciao 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 ciao